Sono saliti sul frecciargento per Roma delle 13.53 in partenza dal primo binario, ma un papà e una mamma cinesi non si sono accorti che nel momento in cui il convoglio stava lasciando la stazione di Padova, a bordo mancavano i loro due figlioletti di 6 e 9 anni, maschio e femmina. Il piccolo dramma deve essere successo forse per la ressa creatasi per prendere in tempo il treno in partenza per la capitale. Gli agenti della polizia ferroviaria di Pattuglia al binario si sono invece accorti del bambino e della bambina che si tenevano per mano e che guardavano immobili il treno che partiva e che il marciapiede rimaneva deserto. L'agente di polizia Adele si è avvicinata ai piccoli e qui sono iniziati gli inevitabili problemi con la lingua, al che la poliziotta ha preso per mano i bimbi per farli allontanare dalla linea gialla, quindi ha cercato all'esterno della stazione una persona cinese per farsi aiutare nella traduzione. In poco tempo è arrivata la conferma che i genitori erano sul treno appena partito per Roma. Contattato il capotreno del Frecciargento, i due bimbi intanto sono stati portati nell'ufficio di polizia, avvisati che mamma e papà presto sarebbero venuti a prenderli e messi a loro agio con una merenda e davanti al loro canale preferito di cartoni animati. Verso le 17.30 i quattro componenti della famigliola, residente in Spagna, potevano riabbracciarsi e riprendere la loro vacanza in Italia.